allora qua abbiamo un bancomato da 50 euro voi due se riesce a dire cinque nomi capitale del continente africa costa 50 euro per vostro in africa tutta l'africa si tutta l'africa solo cinque nomi capitale capitali si capitali non è tunisia il congo non vuoi vincere 50 euro che domande su c'è ma sono domanda ma sono domanda tu hai detto una e ha detto una rosa manca 3 se riesce a dire 3 50 euro per voi se volete ti aiuto io per dire una come io sono io vengo dal male allora capitale di male si chiama bamako avete manca 4 se tu riesci a dire 2 di dire 2 50 euro vostro ammeli 50 ma se me viene dopo obbligato con 50 euro vero io posso beccarmi con 50 euro allora spara solo 4 capitale raggiungiamo ancora un'altra 50 se volete ma io sono ignorante ecco 600 euro per voi hey there subscribe to my channel and also press this bell icon io io bella bella di richone si ti sanno qua jasmin jasmin mattia mattia piacere volo lei intanto sei molto carina grazie siete caricati per la domanda carichissimi siete di dove di cesena io cesena bro invece io di samigliano samigliano come voi trovate qua i riccioni siamo venuti in treno si ma come voi trovate qua tutto bene ah si si tutto bene tutto bene bro tutto bene allora qua abbiamo un bancomato da 50 euro voi due se riesce a dire 5 nomi capitale del continente africa costa 50 euro per vostro in africa tutta l'africa si tutta l'africa solo 5 nomi capitale però capitali si capitali beh spara 1 tunisi è una capitale no tunisia è un paese tunisiano capitale la tunisi è la capitale della tunisia no? no tunisia è la capitale? si la capitale della tunisia non è la tunisia? no ok allora spara una io non le so le capitali avete un minuto tempo non ne conosco casa blanca non so la capitale esatto casa blanca è una capitale si quindi avete manca 4 ora per vincere questo 50 euro dai spara una non ne conosco me il tuo amoroso ha già sparato una no? ma lui è intelligente si lui è intelligente giovannesburg sudafrica si diciamo si vale 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 ciao a due si 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 dai spara tiri e poi vincerete 50 euro eh ma io non le conosco sono proprio ignorante nei geografiani non so non ho idea non ho idea 50 euro secondo me un po' tanto no? africa si africa quindi avete perso? algeri algeria si algeria come si chiama capitale dell'algeria? non si chiama algeri? no inizia con a ma non è algeria algeri senza a? no inizia con la a loro capitale inizia con la a dai prova capitale dell'algeria che cazzo ne so io dell'algeria si dai conosco i paesi ma non so le capitali ti aiuto di dire una quindi algeria capitale si chiama alger quindi avete mancano due se tu spara una lei spara una 50 euro per voi avete 30 secondi si due dai ci dobbiamo arrivare per 30 secondi però perché algeria io ho aiutato per dire capitale dell'algeria la casa blanca dov'è poi? marocco si no abbiamo detto marocco sud africa e algeria in nord africa c'è c'è costa d'avorio c'è in cameron come si chiama capitale del costa d'avorio? ma siete quei intelligenti dai ragazzi avete perso avevamo molti dubbi mi dispiace quindi raga mi dispiace si è piccato se volete fare follow potete lasciare il vostro insta è impronunciabile vabbè io ho mattia paganelli buona seguiti a tutti raga almeno seguitati ciao yo yo bella bella direzione ci siamo con? giulia nicole nicole intanto siete molto carini nicole dove? perugia milano milano city sai milano spaccano vero? si da una a dieci quanto voto hai da adesso? dieci dieci subito perugia dai spacca tutto qua incredibile no? perugia spacca diamo io 9 e mezzo ah 9 e mezzo subito siete caricati per questo domanda? si volete vincere 50 euro? subito poi spiaggia potete ubriare anche con 50 euro no? si stasera allora se voi due se riesci a dire cinque nomi capitale del continente africa eh abbiamo già perso cinque nomi ehm non ne so ne dell'africa? no cinque nomi capitale dell'africa no non ne so manco uno si non ne so manco uno tieni 50 euro in mano e spacca aspetta dai spacca cinque capitali dell'africa? si esatto cinque capitali no io non ne so manco uno ah come mai si i soldi lo vuoi no come mai dai spara mica mi metto guarda qua ma questo cinquanta euro è bello ah? bancomata eh lo so non so credevo di stamattina ah no 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 non devi guardare niente sennò loro è già perso dai venite avvicinare a me un po' dai spacca questa domanda non vuoi vincere 50 euro? che domanda è sua? ma sono domanda ma sono domanda un po' più facili non sulla geografia magari no ma questa non è geografia ovvio che porti 5k chi mai saprebbe mai cinque passi dell'africa dai avete 30 secondi potete pensare se volete ti aiuto io per dire una eh una come io sono io vengo dal Mali allora capitale di Mali si chiama Bamako avete manca 4 se tu riesci a dire 2 dai riesci a dire 2 50 euro il vostro dai venite avvicinare a me un po' dai 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 venite avvicinare a me un po' dai non la so poi manco io adesso sapeva dai spaccate spara uno almeno ma che sparo? è capitale? no ma di capitale non so non so non sai niente che cazzo dei stati c'è in Africa tra un po' io conosco che in Africa c'è il Marocco l'Algeria la Tunisia sì ma come si chiama capitale di quelli paesi? come si chiama capitale del Tunisia Morocco se riesci a quasi avete 4 già casa blanca esatto casa blanca 2 avete manca? basta le ho detto no casa blanca a Bamako ora manca 3 ad ad ambuia? no ha detto il suo amico no no vabbè questo non c'entra niente questo non c'entra niente avete mancato 3 per vincere 50 euro ma non fattine la capitale di casa blanca dai avete perso 50 avete perso 50 euro ragazzi mi dispiace stai spaccando subito così io io bella bella di Venezia City siamo con? vittoria matilda matilda rebecca siete di Venezia? si tutto bene qua? si si venese a spaccano è vero? certo da una dici quanto voto è da nesta a Venezia? non mi piace ah non ti piace subito così voi invece? non mi piace mamma mia gare allora io ti porto voi a trentino al tua legge va bene perché sono di trentino va bene a me piace il sud ah quindi ti va bene con noi qua in trentino va bene? no buona allora la domanda di oggi molto semplice se potete dire 5 nomi capitale dell'africa del continente africa oddio ah si io li so costo 50 euro sono per voi vedi costo 50 euro sei resi solo 5 nomi capitale del continente africa costo 50 euro per vostro subito dai spara uno io non lo so dai tieni il martello per sbagliare allora non lo so tieni il martello per sbagliare la domanda ecco si eh e dillo tu non lo so non lo so tu ce l'hai? almeno uno il congo? oh no il congo è un paese non è una capitale non lo so dai tu invece spara una giamaica 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 è mamma mia incredibile giamaica non è africa giamaica è sud africa ah allora allora i 5 nomi capitale del continente africa dai spara costo 50 raggiungiamo ancora un'altra 50 se volete ma io sono ignorante 100 euro per voi ecco 100 euro per voi se potete dire 5 nomi capitale del continente africa costo 50 100 euro per voi allora ti aiuto a dire una come io sono maliano capitale del mali si chiama bamako ora vi manchi solo 4 ore sì ma sono mister nigeria ma nigeria ma nigeria è un paese non è una capite non è una capitale no loro hai una capitale ma se dici nigeria come ha detto un paese eh non lo so dai vedo questo 100 euro sono belli eh non volete soldi eh sì ma certo che li voglio allora spara solo 4 io ho già detto capitale di mali si chiama bamako bamako si il mio capitale mali si eh vediamo dai tu spara 2 loro spara 2 questo 100 euro per voi potete obbligare che con 100 euro si o no si allora spara dai avete qualche idea zero zero mamma mia mamma mia è incredibile dai spara dai avete persi queste 100 euro ragazzi mi dispiace è un po' difficile l'africa se non troppo difficili sono quattro io già io ti ho già avuto voice mamma mia guarda io io bella bella di riccione city siamo con edoardo chiara chiara v trento 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 io sono leone di trentino cosa? sai che io sono leone di trentino? sì me l'hai detto prima mamma mia incredibile allora la domanda è di oggi molto semplice vedete 50 euro qua no? abbiamo 50 euro qua voi due se riesci a dire 5 nomi capitali del continente questo è 50 euro, sono vostro ma 5 io, 5 lui no, no, totale 5 5 capitali dell'africa esatto, sì c'è Tunisi ma Tunisia è un paese non una capitale devo dire il paese? esatto, no, devi dire capitale è Tunisia, non è la capitale della Tunisia no, Tunisia è un paese capitale dell'Italia è romano la capitale della Tunisia non è Tunisia? no allora niente aspetta, c'è la capitale aspetta c'è tanti Tunisini a Trento sì, ma magari anche tu hai un'amica io pensavo fosse Tunisi no, Tunisia è un paese e qual'è della Tunisia? dell'Europa non vi piaceva no, in Africa va bene anche andiamo a Sud America quello che preferisci Marrakesh? Marrakesh? del Marocco esatto no Casablanca? esatto, Casablanca Casablanca del Marocco sì, sì Casablanca di Marrakesh non mi ricordo di cos'è Marrakesh forse è una città non lo so anche io Marrakesh è famosa però se tu mi lasci dire lei è 2,50 euro costo subito la sapelle aspetta quello dell'Algeria dai, avete solo un minuto un minuto per davvero costa 50 euro Algeria dell'Algeria Algeria è un paese sì, sì stiamo cercando di dominare quello dell'Algeria guarda qua incredibile spacca tu ce l'hai un martello a mano mi sa che questi 50 euro li tieni non ce li merichiamo volete ti aiuto di dire uno quindi tu metti è dell'Algeria si chiama Algeria ora ora vi mancate 4 no, 2 dipende sì, sì, 2 adesso manca 3 dai, sparate 3 fatta come vengono 50 euro bello sono belli 50 euro ma se mi viene è così 50 euro pubblici con 50 euro spara 1 se vuoi sui paesi ma le capitali no quindi avete perso allora come si chiama capitale del Trento capitale di Trento non esiste il capoluogo capoluogo è 2 Trento e Bolzano Trento e Bolzano quindi avete perso cosa 50 euro mi chiedevo avete perso cosa 50 euro non ce li meritiamo non ce li meritiamo subito così la geografia dell'Africa non so i paesi ma le capitali no quindi ragazzi mi dispiace tienili io io bella bella di Riccione City siamo con Giulia Giulia bello nome Laura Laura allora siete caricati per la domanda sì siete di dove Riccione Riccione City esatto mamma mia sai i riccione spaccano di brutto l'estate da 100 a 1 quante volte ridare sta a Riccione quante volte da 1 a 100 100 100 100 subito 100 subitissimo allora intanto siete molto carini grazie allora la domanda di oggi molto semplice qua abbiamo 50 euro dove è andata 50 euro puoi tenere la mano lo tenere in mano sì se potete dire 5 nome se potete dire 5 nome capitale del continente Africa costo 50 euro sono vostro eh io dai sparo Laura io lo sapevo domande così guarda no io sto zitta Laura solo 5 nome capitale del continente Africa costo 50 euro sono vostro dai sparo eh ma non sappiamo niente niente zero niente anche questo abbiamo una bandera qua no ok come si chiama questo capitale di questa bandera ma secondo te che bandera è questa bandera no non è italiano questo non è bianco questo cos'è giallo si è giallo giallo non lo so non lo sai allora questo bandera è Mali il mio capitale come si chiama capitale del Mali chi è troppo di cosa capitale del Mali degli Mali si bo allora Bamako il nostro capitale si chiama Bamako ora vi mancate quattro capitali io ti ho già detto uno se tu puoi dire due lei dici due questo è 50 euro vostro ma noi mi sa che ti ridiamo già subito mamma mia dai 50 euro tanto non li sappiamo non li sappiamo non li sappiamo tu puoi ubriare con 50 euro è vero io posso biacarmi si con 50 euro allora spara solo quattro capitali dai io ho già detto una nomi africani del tipo allora come si chiama capitale del Morocco come tutti sanno quello capitale del Marocco si come si chiama capitale del Morocco come si chiama capitale del Francia vabbè Parigi della Francia quello è il continente Europa allora andiamo Africa solo quattro si solo quattro costa 50 euro vostro tu spara due tua amica spara due potete andare a sedere con 50 euro addirittura non ce la facciamo credimi credimi allora 50 euro per chi ora perché ora 50 euro per chi per me avete persi già eh sì Africa zero non so neanche i nomi africani no anche il nome africano no Abdul ah Abdul addirittura così mamma mia io sono solo uno io sei stato con un nome che si chiama Abdul no 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 ma come puoi sapere il nome di Abdul subito così dove ho conosciuto il nome africano no nome di muslimano diciamo dove ho conosciuto questo nome no è del qua dai in giro lei è già stato con una persona che si chiama Abdul no si chiamano tutti Abdul quindi non lo so va bene comunque è stato un piacere adesso ce ne dici 5 però voglio sapere 5 allora Bamako Dakar Araba Algeria si chiama Alger capitale del costo d'Avorio Abija e basta ma secondo te ma io non so neanche se li leggo sti nomi ma non sto scherzando mamma mia è incredibile allora sei riuso a ripetere quello che ho detto io 50 euro e tu allora no 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 non lo so ripetere ripeti un attimo e poi ripeto no ho già perso chiudiamo i video qua Abaco Abigo ti hai salutato ciao non sappiamo niente dell'Africa bella bella di Riccione City bella di Riccione City come ti chiami? Marta ma Samantha Giulia Giulia Emma Emma Ilaria 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 intanto siete molto carini grazie siete caricati per questa domanda eh certo siamo prontissime volete vincere 50 euro no? eh speriamo dai siete in 5 giusto? sì allora la domanda di oggi è molto semplice se potete dirmi 5 nomi capitale del continente Africa costo 50 euro per voi capitali? sì 5 nomi capitale del continente Africa siete in 5 una ok dai dillo Marrakesh ah? la scherzata casa blanca si esatto casa blanca casa blanca no lo stavo per dire io il Cairo città del capo città del capo città del capo come si chiama quella città? quello paese? paese di chi? no no casa blanca è sicura sì dai spara allora casa blanca e il Cairo allora il Cairo Cairo? come si chiama il paese di Cairo? Egitto ah sì oddio adesso non non dai mancate voi tre dai avete un minuto ancora no dai dai loro hanno sparato già dai tu spara qualcosa eh ci stanno il capo ho detto io allora siamo siamo due eh eh Sud Africa eh Sud Africa eh Sud Africa siamo Africa non Sud Africa eh allora dai spara una ma non voglio sperare che ha costa d'Avorio no costa d'Avorio un paese come si chiama capitale del costa d'Avorio? eh costa d'Avorio? no non è lo stesso costa d'Avorio un paese eh io credevo fosse lo stesso eh credevo fosse lo stesso no 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 ah no non lo so allora hanno una capitale ma sai che domanda dai ragazzi 50 euro tanto Nigeria niger no nigeria e nigeri eh tu hai detto due paesi c'è nigeri c'è nigeria eh hai visto aspetta 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 la capitale dell'Avorio? potete al Pirachi con 50 euro stasera no? ma io ne ho visto un paese lo sto pensando eh si e la quella della Tunisia? o qual'è? Tunisi io non posso dire Tunisi Tunisi della Tunisia no 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 non è Tunisia non lo so non lo so non lo sappiamo aspetta 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 come si chiama capitale dell'Algeria? dell'Algeria si eh sì mi sta dicendo no non è Algeria noi stiamo dicendo non è Algeria non è Algeria no Algeria è loro è Tirana è Albania magari Albania diventa Africa io non lo so ma dai c'è un po' schifo siamo un po' schifo ma no no ma praticamente è Madagascar chi? dai ragazzi eh no eh l'abbiamo perso dai guarda questo è un banco ma di 50 euro dai abbiamo anche 4 no avete dei due eh ma noi 10 euro no non funziona bene no non è esatto io ho zero non mi viene in mente niente non mi viene in mente niente dai siete molto carini dovete sparare questo solo cinque avete fatto due manca solo tre tre gli mancano altre tre si allora 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 ragazzi mi dispiace avete già perso eh eh avete già perso ah io io bella bella raga di venezia city siamo con boriana oh boriana denise oh gardè intanto siete molto carini grazie siete caricati per la domanda si dai venite avvicinare prima di tornare in trentino oh gardè siete caricati per la domanda si si allora la domanda di oggi è molto semplice invece costa 50 euro puoi tenere la tua mano no? se vuoi volentieri allora se voi due se riesci a dire cinque capitali nomi del continente africa costa 50 euro per vostro solo cinque nomi capitali del continente africa dell'africa si dell'africa te le dico tutte mamma mia guardè quindi ho già perso 50 euro subito eh rabat oh sè subito così come si chiama il paese del rabat marocco oh sè guardè si tunisi la capitale della tunisia si eh dai hai già sparato una dai tu invece no no io mi astengo lascia fare tutto a lei no lei è troppo forte è incredibile rubano 50 euro subito così guardè oddio oddio dai spara ce la fai città del capo no no errato no errato non lo so sei brava hai già sparato una subito dimmi un dai dimmi un altro e poi ti aiuto ma congo è un paese non è una congo congo è una capitale ma congo si chiama un grande eh sono stupida dai tu hai detto congo congo è un paese capitale del congo come si chiama non lo so dai spara come non lo sai è subito così no dai spara almeno non lo so non lo sai dai tu invece spara eh dimmi un paese allora io sono maliano come si chiama capitale del mali del mali si hai qualche amici maliani no ti aiuto per dire capitale del mali ecco mamma qua ora voi tu hai detto una e hai detto una adesso manca tre se riesci a dire tre cinquanta euro per voi no mi astengo mi astengo come spara incredibile qua ma cosa devo sparare? spara solo tre nomi che mancano come si chiama capitale dell'algeria? come si chiama capitale dell'algeria? algeri? 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 si algeri si ok algeri si chiama capitale è il nome di paese come si chiama capitale? è loro non lo so come non lo so e tu invece? no almeno spara una tu hai cinquanta euro al mano tu che devi sparare tutte no no io non so niente come non sai niente subito così? devo andare via devo andare via no spara almeno non lo so va bene quindi avete perso cinquanta euro mi dispiace ragazzi va bene i'm a hustler baby i know heartbreaks setbacks bitch if i crap out i'm sure i'ma get